Una regione in crescita e questo mi sembra un fatto importante, per tutto quello che è accaduto siamo riusciti sul mercato italiano a tenere anche quest'anno con dei buoni risultati in termini di incremento di arrivi e il segnale nuovo è stato sugli stranieri, era la parte più debole, anche più complicata forse da spiegare un paio di anni fa su venire a fare le vacanze nelle Marche e c'è stato in quest'anno una crescita, un più del 12%, un segno importante per noi è facile fare un numero a doppie cifre perché i numeri sono bassi, bisogna ammetterlo però il nostro obiettivo è di continuare a crescere in quella direzione, consolidare il mercato italiano sul quale siamo andati sempre molto bene e crescere verso il mercato straniero quello che stiamo facendo per il salvataggio di Erdorica che consentirà quindi di incrementare i voli in mezzo essenziale per poter portare i stranieri è un segno importante, quello che faremo con gli oltre 10 milioni e mezzo in più per riqualificare le strutture ricettive è un altro elemento, infine il tema del bike che agli stranieri piace tantissimo, passeremo da una situazione che chiamiamola spontanea a qualcosa di più organizzato grazie alla collaborazione di tutti, aggiungendo questo cluster importante a quello che già le Marche offrono. Cerchiamo di dare attuazione a una misura prevista da uno degli ultimi decreti 6 milioni di euro per realizzare delle aree campeggio, è chiaro che una zona terremotata non si può puntare sulle strutture che ci vorrà tempo per recuperarle ma la realizzazione di una decina di aree che già i comuni hanno presentato di questa natura permetteranno innanzitutto il turismo di ritorno che era una grande fonte di reddito per le aree interne ma anche creare delle opportunità per chi vuol vedere il nostro territorio che pur ferito è ancora bellissimo. Sarebbe un bel problema quello del turismo di massa ma non è certamente la formula che il turismo che viene nelle Marche cerca altro, quindi non ci preoccupiamo da questo punto di vista, l'identità è molto chiara, dobbiamo proprio creare fino in fondo quelle condizioni per essere accoglienti che chiaramente il terremoto ci ha messo in difficoltà ma abbiamo saputo reagire molto bene e siamo convinti che con questi piccoli sforzi potremo ottenere grandi risultati. Grazie.